Maxi sequestro e controlli da parte dei Nassi in tutta Italia a seguito dei recenti episodi di intossicazione dall'isteria connessi col consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura come ad esempio il Wurstel. 14 tonnellate di alimenti irregolari sono state sequestrate per un valore commerciale di circa 327 mila euro e 23 imprese produttive e commerciali il cui valore economico monta oltre 7 milioni di euro sono state sottoposte a chiusura o sospensione. Tra le criticità riscontrate è stato rilevato l'uso di materie prime scadute e di validità in cattivo stato di conservazione e la mancata applicazione delle procedure preventive di autocontrollo e tracciabilità degli alimenti, elementi essenziali per individuare e contenere possibili casi di intossicazione causati dal consumo di alimenti nocivi o pericolosi. Trovate inoltre muffe sulle pareti dei locali destinati allo scarico merci con potenziale rischio di contaminazione degli alimenti. Grazie per la visione!